Per raggiungere la competitività nel campionato mondiale MotoGP abbiamo deciso per il 2016 di sviluppare un progetto completamente nuovo partendo dal foglio bianco, quindi senza più vincoli o limitazioni. Il motore MotoGP di Aprilia Racing ha una configurazione a V stretta ed è il primo progetto di Aprilia Racing nella MotoGP completamente interna. Le principali componenti del motociclo sono designate e assemblate in Aprilia Racing e match the compactness of the new engine. Per la nuova RSGP 2016 potremo avvalerci dei nostri software di analisi dati e di analisi veicolo completamente realizzati all'interno del reparto elettronico di Aprilia Racing. Abbiamo già girato al banco da alcune settimane e abbiamo degli ottimi risultati in termini di affidabilità e prestazione. È chiaro che stiamo crescendo per migliorare tutto il 2016. Il progetto ha impegnato gran parte delle risorse del reparto corse, quindi oltre 70 tra tecnici e ingegneri. È un numero imprecisato di ore, spesso notturne, molte notti in sole. Il progetto di Aprilia Racing è il progetto più ambitioso e importante in storia di Aprilia Racing. Il progetto è di mantenere i aspetti tradizionali di tutte le biciclete di Aprilia Racing. La legge, il compagno e la gestione superiore sono le caratteristiche tradizionali di tutte le biciclete di Aprilia Racing. Aprilia Racing è la piattaforma tecnologica più avanzata del gruppo Piaggio. Grazie a tutti!